Cosa farà Dona Bondio? Possa pensa nella notte tormentata Dona Bondio per riuscire a scamparla con Renzo. Una strategia usata da Dona Bondio era quella di allungare per qualche giorno la data del matrimonio. In questa maniera avrebbe avuto una proroga di più di qualche mese perché dopo quattro giorni sarebbe arrivato il tempo in cui nessuno si sarebbe potuto sposare. La strategia di Dona Bondio era tergiversare per qualche giorno per avere una proroga di qualche mese. Mancavano pochi giorni al periodo proibito per svolgere qualsiasi matrimonio. Come reagirà Renzo? Questo lo scopriremo nel prossimo video. Ciao, a presto! Grazie!